Era il commercialista di circa 80 centri di massaggi cinesi, tra cui anche quello di via Augusto Riboti a Prati, in cui a fine novembre 2022 Gian Davide De Pau aveva ucciso Xiu Liguo, 47 anni, e Yan Rongli, 56 anni. A scoprire e arrestare l'uomo, un 68enne, sono stati i vigili urbani del gruppo di sicurezza emergenziale. Il commercialista nel suo studio custodiva conti, carte, documenti e contanti provenienti dai centri massaggi. Nell'indagine avviata circa due anni fa, gli investigatori avevano messo sotto controllo numerosi centri massaggi romani, sospettando fossero dei veri e propri centri di prostituzione. Al centro dell'inchiesta, coordinata dal pubblico ministero Pierluigi Cipolla, anche riciclaggio di denaro sporco proveniente dalle attività e i possibili collegamenti con la criminalità organizzata cinese. Oltre all'uomo, ai domiciliari, sono finite anche due donne di nazionalità cinese di 52 e 57 anni. Sfruttavano la prostituzione nei centri massaggi a Prati e alla Magliana.